Se la notizia dell'addio di Barrientos era stata clamorosa, ancora di più lo è stata la marcia indietro. Il Pitu resta in rossazzurro, l'ha annunciato ieri sera il presidente Pulvirenti. Niente Qatar dunque per il fantasista del Catania, che rimarrà dunque l'uomo di maggior classe della formazione di Maran. Pulvirenti ha spiegato di aver incontrato il giocatore, quest'ultimo ha chiarito i motivi che lo spingevano ad accettare l'offerta, ma poi ha convenuto con lo stesso presidente che la cosa migliore era rinunziare. Rimangono in rossazzurro anche Bergessio e Spolli che rinnovano i loro contratti nonostante le offerte allettanti dall'Italia e dall'estero. Il Catania inoltre ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista della nazionale cieca Plasil e del terzino sinistro dell'under 21 azzurra Biraghi, entrambi in prestito. Ducarà invece va all'UVestad. Il Plasil e del giovane Biraghi, oltre a quelli immediatamente precedenti di Boateng e Guarente, completano e rafforzano ulteriormente un organico già competitivo. Non soltanto novità però, ma anche importanti conferme rianimano l'ambiente etneo. Il prolungamento del contratto fino al 2016 di Spolli e soprattutto il ritrovato feeling con Maxi Lopez e Pablo Barrientos. Per quest'ultimo l'annuncio ufficiale è arrivato ieri direttamente dalla bocca di un soddisfatto presidente Pulvirenti, ospite della trasmissione sportiva di Telecolor Corner. Abbiamo parlato a lungo, mi ha spiegato la situazione esattamente come è andata, mi ha spiegato i motivi per cui lui aveva quella situazione di tubanza e credo che tutti noi lo possiamo capire perché, ripeto, veniva fuori da un precedente di questo genere, quindi era un po', il ragazzo era un po' così. Lui ci ha pensato a lungo, noi abbiamo parlato, alla fine ci siamo abbracciati e quindi Barrientos resta a Catania. Niente Catar, quindi per il Pitu che dopo aver saltato la sfida di domenica con l'Inter è ora chiamato ad offrire un concreto contributo in termini di idee e punti alla squadra di Maran già a partire dalla prossima partita. Insomma, il brutto avvio di campionato contro avversari e comunque blasonate non spegne le ambizioni della società rossa-azzurra che anzi, come confermato dallo stesso Pulvirenti, rilancia alla grande proseguendo sulla strada intrapresa. Rossazzurri che nel pomeriggio riprendono a lavorare a Torre del Grifo per preparare il prossimo impegno in trasferta a Livorno in programma subito dopo la pausa osservata dal campionato. La Lega ha intanto definito il calendario di anticipi e posticipi fino alla diciassettesima giornata. Cinque variazioni riguardano il Catania che giocherà a Cagliari sabato 19 ottobre alle 18 e a Napoli sabato 2 novembre alle 20.45. Anticipati anche gli appuntamenti casalinghi contro Udinese sabato 9 novembre alle 18, Milan domenica 1 dicembre alle 12.30 e Verona sabato 14 dicembre alle 18.